Non trova pace né soluzioni. Il cantiere dell'area ex SNUM, il cedimento della Cremonella, il canale rimasto danneggiato durante i lavori, iniziati ormai da un anno e mai portati avanti, ha dato il colpo di grazia ad una situazione già più volte compromessa dai più diversi fattori. Conad aveva presentato un progetto di insediamento sull'area di smessa di Portamosa, ceduta dal Comune alla Cooperativa Monteverdi, e in quel frangente si erano avviate le operazioni di bonifica. Tutto però poi si è arenato di fronte ai vetti imposti dalla soprintendenza e dalla Commissione Paesaggio, fino all'affossamento totale del progetto avvenuto contestualmente al danneggiamento del cavo Cremonella, e nello specifico della volta in cotto che rappresenta un tratto importante dell'antica idrografia cittadina. Proprio dalla Cremonella, che ora risulta a cielo aperto, sembra stiano arrivando vere e proprie colonie di animali, in attesa che si trovi l'ennesima proposta di soluzione per un'area tanto grande quanto difficile.